Gita numero 17, Anello, Curlo, Scarpegine, Gava. Partenza dalla località Curlo, sulle alture di Arenzano. Per lo Scarpegine, segna via due pallini rossi. Vieni Dario. Mai visto una pigna così resistente. Il mare. E lo Scarpegine davanti a noi. Ora è proprio bello il sentiero. Luigi. Luigi. Ora è bello. Voglio vederlo dentro. Esatto. Bello. E' vero, c'è il cammino. C'è anche la stufetta. E' vero, è bellissimo. Però è un gran casino. Wow. Scarpegine. Passo della gavetta. Eccoci al passo della gava. Chè ragazzi. passo basso nella casazione. buon caso da un tiglio. E due siti approchi. I giorni di 150 C glued explosions. Sono base di bel risco. Un Brittanyaggio, 950 C giant at Annowsha. vasco! Guarda? Guarda la casa del tiglio. Ready? Show! Wow! Crawf! no ah 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 che schiaffo, che schiaffo ma c'è, ma è impressionante no, è probabile non ce la fa forza ma lei non accorta ma lui che vorrebbe ah, riparte si fa gli agguati è pieno proprio dell'energia grazie a tutti no, non c'era niente era sulla scheda madre aveva una vecchissima GeForce 8004 completamente passiva e no, guarda lì, guarda lì ecco Jürgen chiuso? no grazie a tutti questa gita tra le belle alture di Arenzano termina qui chilometri percorsi circa nove ore di cammino cinque e un po' di slivello 350 metri circa buone gite a tutti peep